Il termine del mio mandato pastorale in mezzo alla comunità di Scigliano che l'obbedienza mi ha fatto vivere per ben nove anni. Io ringrazio il Signore per questa esperienza e soprattutto oggi attraverso la giunta comunale oggi riunita nel conferimento della cittadinanza onolaria di questa città. La vita del soggiorno è spesa per il bene dei fedeli, al di là dei riconoscimenti che ringrazio e ne sono risungato, ma soprattutto è lo sprono ad andare avanti e a cercare sempre il bene comune fra le istituzioni che la parroccia e il comune in questi anni hanno intessuto per il bene sociale, culturale, spirituale e anche materiale della comunità. Grazie a tutti e grazie al Signor Sindaco e a tutta la Municipalità per questo dono prezioso che custodisco gelosamente e che mi fa sentire parte eletta di questa comunità che benvolentieri ho servito nel nome del Signore. Grazie. Grazie a tutti.